Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Call of Duty Black Ops o Mario Kart DS è Mario Kart sicuro di più. MW2 o Super Mario World. A questo punto, allo MW2 io lo sapevo, MW2 c'ha tipo 25 milioni di copie. Ma a chi cazzo so gioca Super Mario World, dio porco. Un altro sta qua a sinistra. La caca! La caca! Da qua già mo? Lo vedo, dalla. Sì! Gigi? Davvero? Ma devi parlare pure a me, ma? Cioè, davvero puoi fare questa cosa? Ah, ma non è puoi fare, non hai idea quanto la faranno. Ma ragazzi, ma che cos'è? Ma it's not that great. Ma manco per cazzo poi, non è non solo poco. Non ho proprio dell'idea che senza barba divento Velox. Senza mani su Call of Duty però. Beccare con di abbiamo, però. Io mi mette ansia così se gioco da solo. Ma si sono tutti divisi. Ah, e qui te ce nascondi. Cosa cosa? Quanto a me? Sei mia, la mia troia. una cosa io scendo dentro la sala land quella tipo tutti di cui server e mentre andavo non c'era nessuno ma se il tipo tangi ma stavolta cosa c'è qualcuno anzi seppure necrofilo no non è mai passato sull'altra guarda che non era non era male comunque farlo e metterne una anche al centro del lago eh di che di telecamera che è successo che è successo marzo? marzo è pesato al nuovo anno secondo me bisogna iniziare a colpire il primo sabato il primo sabato di gennaio però non ci sto io il problema è quello perché la vuoi fare il sabato poi si era un codice chiuse a napoli come sanno in tutti i sensi ai kings avens nel 1984 un gruppo di sei ragazzi hai portato le carte da uno si incontrano poi uno viene in maniera veramente brutta sento passi ma regali di realtà dopo era di giocare ma sentate impasto stavo vai bando che cazzo te balli io l'ho messo si veda molto male poi andiamo ad aggiungere un fazzone che tanto il fazzone volente o non è verrà e poi in nove in realtà si può fa sti cazzi non dovevo per forza essere 10 ogni mistero per ciccio non è più un mistero ciccio è il danzo davvero con abilità ciccio a mo domani esce project playtime ce lo porti domani ma scusa è coso è c'è il cinque no è cinque notti no che cos'è project playtime che cazzo è project playtime che è poppy è poppy 3 project playtime gameplay versus behind the gips i secondi sono l'uccello più sfigato anche dopo le galline se vogliamo dire non volano e pigliano i pesci in gola oh se gode agra domani domani ci avemo già l'horror se gode sui sui come in coppa è poppy 3 in coppa ma non sto segando si ma sembra che ho un cazzo enorme oggi raga ma ci ho fatto caso pure io ma perchè si ma che che è la maglietta è la maglietta è la maglietta era la maglietta era la maglietta no era la maglietta era la maglietta che me l'ero infilata fino giù nelle mutande c'era qualcosa che se te va che te devo di dai almeno so almeno cazzo è lana è un misto lana di cristo italiano e mi piace chi è guarda che shrek mi nonno hitler wow ma sono tutti Ergiled e shrek anzi guarda che questo con una bella una bella vabbè mi piace togli la chatta c'hai ragione Tullio De Piscopo Napoli 24 febbraio 1946 è un batterista cantautore percussionista e band leader italiano è nato a Napoli il 24 febbraio 1946 cresciuto nella zona di Porta Capuana a Napoli il padre Giuseppe era a sua volta un batterista e percussionista che suonava nell'orchestra del regio teatro San Carlo di Napoli e nell'orchestra del maestro Giuseppe Anepeta uno dei più famosi arrangiatori e direttori d'orchestra della canzone napoletana mentre il fratello maggiore Romeo 19 marco martin m 4 r t i n n n n n n 4 n alla fine gli dai per favore un'oretta dai un'orettina tranquilla ho sentito che il clima è particolarmente mite in Scozia in questa stagione ma zii che bello io amo la Scozia io voglio andare in Scozia 26 e 80 114 no ma a me ha smesso di pagare signori ha detto basta è in 5 a 1 zii è amichevole si 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 ma ha detto proprio basta se è dimenticata di me è una cosa incredibile imbarazzante cioè nelle ultime slot non sono andato sopra i 120 euro ma vogliamo parlare del fatto che nonostante i 3k vinti quasi 2 8 io oggi e mancano ancora due bonus minimi da comprare sennò 3 comunque sto sotto dei 900 porco dio diventa la cosa che è NEL VEGATO DI RETO Anzi è cascato con il maestro dietro Sembrava la fatality di Warzone Quando te la fanno da dietro Però poi puntualmente mi fa vomitare Perché è lentissimo Dammi subito la mia No non voglio cucinare Non voglio cucinare Voglio solo aprire quel tesoro Il baule ricercato Grazie Grazie